ciao ragazzi eccoci qua è il primo giorno della mia challenge personale e vi faccio vedere quanto peso allora oggi è il 14 gennaio 2022 e come avete visto peso 66 kg giusti giusti molti mi diranno ma guarda che ti devi pesare praticamente nuda però ragazzi vestiti pesano pochi grammi non è quello che mi fa la differenza il fatto è che io ho visto 66 sulla bilancia e non è mai capitato prima quindi ripeto oggi è il 14 gennaio 2022 inizio la mia sfida di 20 giorni con il formula 1 erba life alla fragola delight e poi quando arriverà il momento del pranzo vi farò vedere come si fa il frullato ero partita con l'idea di voler fare due pasti il pranzo e la cena con il formula 1 però considerando che fa tanto freddo e io la sera senza la mia minestra non ci so stare allora ho cambiato programma e farò la colazione e il pranzo quindi partiamo con il frullato vedete questo è lo shaker di erba life dentro c'è questo aggeggio che aiuta a sciogliere il prodotto prendo il mio e beh cucchiaio da colazione e io ci metto due cucchiai di due cucchiai un po' rasi anche di formula 1 perché mi piace che sia più liquido che cremoso ecco qua poi 250 ml di latte e poi ci metto anche una spruzzata di orzo voglio assaggiarlo con l'orzo bene bene sciacchieriamo tutto sciacchieriamo per un po' bene ragazzi io continuo a sciacchierare e poi faccio l'assaggio pronto madonna santa ecco bene adesso vedrete che ho il filtro tiktok ma non importa buono 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 che poi mi piace perché queste cose si possono anche mescolare al cacao amaro si possono fare i pancake si possono fare tantissimi dolci anche anche piatti primi piatti secondi piatti ma ne parleremo più avanti ragazzi io mi gusto il mio frullato mi faccio la mia colazione dovrebbe essere completata con l'infuso e l'aloe però non so non so ho l'estro di fare così questa mattina vediamo se comunque funziona ma sono sicura di sì perché l'ho provata tempo fa e ero riuscita a calare di ben 5 kg anche senza fare attività fisica ok è andata via la connessione e niente ragazzi io continuo la mia colazione vi ripeto è un prodotto che secondo me è più che valido va approvato va approvato se per caso anche voi usate questi prodotti iniziamo la sfida la challenge insieme vediamo quanto riusciamo a calare nel giro di 20-21 giorni ok e magari si può fare anche amicizia perché no quindi ragazzi io adesso continuo la mia colazione e poi ci vediamo all'ora di pranzo ciao allora ho provato a fare i pancake per pranzo ma sono venuti uno schifo perché non li so fare e quindi siccome ho finito il latte e le uova perché ho provato a fare i pancake allora ho fatto il mio frullato con l'acqua eccolo qua e sempre due cucchiai di formula 1 vediamo un po' com'è buono sempre buono però lo preferisco con il latte decisamente detto ciò io continuerò la mia challenge per 21 giorni è inutile che sto qua a mostrarvi giorno per giorno come faccio il formula 1 però vi tengo aggiornati sul mio peso e così insomma spero di riuscire a calare di nuovo questi 6-7 chili che sono di troppo per me e nel frattempo vi mando un bacio grande grande e iscrivetevi al mio canale mi raccomando e attivate la campanella e buona giornata a tutti